Giacomo! Giacomo dove sei? Noi siamo pronti qua eh! Giacomo! Dai stasciù! Poi me le ciò pancama, guarda qua! Giacomo sveglia! Buona la risa! Allora, eh no figlio, dobbiamo essere pronti eh! Ma che ce l'hai serato ormai eh! Giacomo che serato? C'hai chiamato tu? Il sedi c'è la banca! Eh ma c'è tempo eh! Allora Giacomo! Giacomo! Che sera? Ah quella là sì sì! Siamo sosseguiti qui alla banca a Borgotaro, grande serata! Esatto! Con tanti tanti ospiti! Le notte un rosa delicio perché? 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 Perché sono tante tutte donne! Adesso non mi ricordo che si cantava! La Elena Cammadone, poi abbiamo la Paola e Battisti, Gialla Franza, Elena Giorgi e poi c'è il presente della salata! Sono io a presentare la serata, Roberto! Siamo nella botte di ferro, sei Giacomo! Preparati Giacomo, come sei da lì eh! C'ho l'uovo qui di Giovanni! E poi i grandi ospite Ivo Benedetti! l'unico massimo della serata che cambia! Beh lo vestiremo di rosa anche lui! Sì! Comunque è partecipato! Adesso anche in maschera! L'orchestra base! Io sono sicuro di esserlo, non so lei adesso! L'orchestra base è la sua, di Paolo Bertoli! Sì, un grande evento, vi aspettiamo numerosi qua alla Baita, ci saranno le prenotazioni, c'è Giacomo, non vi dorme sempre, adesso partono gli scherzi, quindi potete contattare lui o Loredana! Una cena in musica e noi vi aspettiamo numerosi! Sì! Sì, adesso si può vedere! Questo lo è perché è proprio per preparare la mia cauda! Io lo spieghi! Io lo spieghi, eh! Quindi si prepara la mia cauda! E quindi? Sì! Sì! No! No!